Salve mister, le chiedo le condizioni di Antei, se può giocare a Livorno e poi anche degli altri acciaccati come Tello e Di Chiara. Antei ha ripreso da oggi come Tello ad allenarsi con la squadra, anche ieri parzialmente, oggi diciamo a pieno regime, quindi sta abbastanza bene e potrebbe giocare. Tello oggi, anche lui ha risolto il problemino che aveva avuto al Polpaccio, quindi sta meglio e è disponibile al 100%. Non ci sarà Di Chiara, che in questi giorni rimarrà qui e poi ci raggiungerà martedì. Mister Ilbenamento non era mai stato in zona promozione diretta, abbiamo parlato dei pregi di questa squadra, della serie positiva di risultati, ma c'è qualcosa secondo lei che deve migliorare per consolidarsi in questa posizione e magari puntare al primo posto? Certo, certo, ci sono tantissime cose, la partita col Pescara credo che sia stata da questo punto di vista per noi molto utile, abbiamo capitalizzato poco e quindi dobbiamo essere bravi, invece quelle partite vanno chiuse con uno scorro molto più ampio, molto prima, perché l'abbiamo vissuto, tante partite, anche a Foggia, dove non abbiamo fatto benissimo, specie nel secondo tempo, però non davamo l'idea di poter soffrire particolarmente, però magari c'è il colpo del singolo, la giocata, l'episodio che ti va contro e quindi rimetti in discussione una partita. Quello del Pescara è stato così, perché non avessimo fatto gollo avremmo parlato sicuramente di una grande beffa, di due punti lasciati lì e questo non dobbiamo farlo, non dobbiamo farlo in particolar modo adesso, dove ogni partita ha un peso specifico notevole, quindi al di là della classifica di quello che siamo, dove siamo, ripeto, la guardiamo relativamente, perché oggi è frutto sicuramente di un percorso positivo, ma se pensiamo che il percorso sia già ottimo e ci basta così, è il momento in cui invece facciamo un grande salto indietro. Noi abbiamo fatto tanta strada, tanti sacrifici, tantissimi sforzi per arrivare a mentalizzare questo percorso e oggi dobbiamo stare sul pezzo e non mollare nulla. Credo che una grande risposta sia stata quella che la società mi ha permesso e che la squadra ha sposato sicuramente in maniera positiva quello di fermarci in ritiro la prossima settimana, ma già l'avamo deciso da 15 giorni, quindi non era un discorso legato ad oggi né al risultato, era semplicemente che in un momento del genere ci dispiace ovviamente non essere vicino alle famiglie, non riuscire ad avere magari del tempo da dedicare a loro, però è un momento in cui non possiamo permetterci di lasciare nulla al caso, quindi è una settimana in cui voglio evitargli dei viaggi, ci alleniamo su due campi belli, pensiamo, prepariamo la partita nel migliore dei modi, i ragazzi l'hanno sicuramente trovato una cosa positiva, quindi segno di una squadra che in questo momento è più che mai sul pezzo e non vuole distrarsi. Salve mister, volevo chiederle, è più difficile riuscire ad arrivare a creare il meccanismo perfetto, magari avendo a disposizione diversi tentativi, diverse prove, oppure è più difficile modificarlo quel meccanismo una volta che è arrivato vicino alla perfezione, evitando il rischio che togliendo qualche pezzo poi l'ingranaggio si possa inceppare? Io credo che a me non piace far sempre solo le stesse cose, credo che l'abbiamo dimostrato al di là dei moduli ma dagli interpreti e anche del passaggio a partita in corso, l'ultima gara col Pescara nel secondo tempo c'erano due registi di qualità, Insigne e trequartista, due punti di ruolo, due quinti comunque sia di spinta, quindi era una squadra che all'interno della partita stava cercando in maniera diversa di attaccare l'avversario quindi dobbiamo essere bravi a saper fare bene le cose che sappiamo fare e a saper correggere qualcosa a strada facendo, perché le partite a volte cambiano negli interpreti, nelle caratteristiche, nel modulo, nel sistema di gioco, numericamente, perché a volte sei in vantaggio come è successo a Foggia e lì non l'abbiamo fatto bene, dobbiamo fare una circolazione di palla sicuramente più fluido, più veloce, che abbiamo fatto 11 contro 11 e paradossalmente invece 11 contro 10 abbiamo rallentato, una pressione diversa, fatta meglio in 11 che in superiorità numerica, quindi queste cose vanno migliorate e poi credo che bisogna usare, bisogna sperimentare, quindi le cose vanno bene, ok, però ci dobbiamo mettere sempre sopra qualcosa di nuovo, perché poi credo che diventi imprevedibile, a me piace anche ogni tanto alternare i centrocampisti, gli attaccanti, il modo di farli giocare, se aperti, se chiusi, se a due, in verticale, in diagonale, a piede invertito o in apertura di catena, quindi credo che sono tutte cose che questa squadra deve saper fare. Quindi non necessariamente determinate scelte sugli uomini, anche se ripetute, implicano un tipo di impostazione tattica simile alla precedente. Grazie. Il tour de force c'è già stato, ma in pratica continua, perché da martedì a lunedì non è che poi passino molti giorni. Conta anche questo nella scelta dei giocatori? Cioè c'è qualcuno che ha subito più degli altri questo tour de force? No, se avessimo giocato sabato probabilmente qualche valutazione in questo senso l'avrei fatta. Martedì, pomeriggio, lunedì sera, comunque sia ci dà il tempo di recuperare. Quindi a meno che non ci sia qualche problematica importante, un colpo, un affaticamento muscolare, un qualcosa che non renda l'atleta al 100%, il resto credo che la stanchezza della gara si recupera. Poi la testa, lo sapete meglio di me, aiuta, quindi in un momento in cui c'è entusiasmo, c'è voglia, tutti hanno voglia di tornare in campo il prima possibile. Quindi sono tutti da quel punto di vista lì assolutamente in condizione. Buongiorno, quali sono a suo avviso le principali insidie del match di lunedì sera al Picchi? Dato che comunque è vero il Livorno di recente ha perso due gare con Spezia e Lecce, però è una squadra comunque rigenerata dalla cura Bereda. Sì, e poi li ha persi in maniera diversa. A Lecce ha perso una partita che non meritava di perdere, perché l'ha giocata veramente bene, è stata aggressiva, è stata molto brava nella qualità del fraseggio, giocano spesso un 3-4-1-2 con diamanti dietro le due punte e anche le caratteristiche delle punte possono cambiare. Possono essere Raic, Cevici o Giannetti, due giocatori più finalizzatori, più bravi in area, piuttosto che magari Dumitru e Murillo, che sono due giocatori di gamba più estrosi, più magari da campo aperto. Quindi hanno tante opzioni. A volte hanno giocato come Spezia con Salsano trequartista e diamanti più avanti, quindi danno pochi riferimenti. È una squadra che aggredisce molto alto, è una squadra molto coraggiosa. Credo che da quando hanno cambiato allenatore hanno usato un po' di più. Quindi è una squadra che in questo momento è in ottima condizione, tranne la partita con lo Spezia, dove sicuramente il gol subito all'inizio è condizionato, anche perché hanno partito molto bene, hanno sfidato il gol in un paio di occasioni. Nelle altre gare hanno sempre fatto veramente molto bene. A Lecce sono stati forse un po' condizionati da un finale, arrembante da parte del Lecce, dove non hanno concesso tanto e i gol sono stati più giocati individuali del Lecce che del merito del Livorno. Poi avevano vinto con il Cosenza in casa, hanno vinto con il Venezia. Hanno vinto con il Venezia il novantesimo, quindi una squadra che non molla mai, è una squadra che in questo momento in particolar modo ha bisogno di punti, quindi mi aspetto una squadra grintosa, che se la giocherà. Poi giocano in casa, quindi partiranno forte, vorranno imprimere i loro ritmi. e noi dovremmo essere bravi invece a portare avanti le nostre idee, quindi grande intensità, qualità nelle giocate, imporci nel gioco, dominare il gioco e cercare di eliminare il più possibile le loro fonti di gioco. Salve, mister, buongiorno. Salve. All'inizio, fase di inizio stagione, lei spesso ha ripetuto il concetto che nel processo di mentalizzazione di questa squadra un po' gravava anche il fatto che dall'esterno sembrava quasi che il Benevento fosse obbligato ad inseguire una posizione in classifica ed un campionato importante. Voi vi siete ritrovati all'inizio a mentalizzarvi, poi ad assestarvi, a sperimentare, avete fatto una gavaccata e adesso vi ritrovate comunque in una posizione importante di classifica. Adesso ricomincerete un'altra volta a risentire, diciamo, quest'obbligo adesso di doverla conservare necessariamente dato che adesso si apre un'altra fase mentale comunque del vostro cammino e se sì, come intendete comunque affrontare questa pressione anche se evidentemente il ritiro è un segnale importante? Non credo assolutamente. Credo che ci sono momenti diversi. Oggi noi non dobbiamo conservare e noi dobbiamo aumentare. Quindi noi non guardiamo di tenere lontane quelle dietro, noi dobbiamo guardare di andare avanti e di fare punti più possibile in ogni partita. Quindi questo deve essere il nostro processo perché se pensiamo di speculare sul punticino, sulla cosa, non siamo più noi. Diventiamo una squadra sparagnina e questo non mi piace. Noi dobbiamo essere una squadra che deve sapere che quando non riesce a vincere allora deve portare a casa un punto. Quello diventa importante. Però deve giocare sempre con la voglia e la possibilità di vincere. Quando dicevi all'inizio le pressioni, quasi il dovere, era un po' generale. un po' lo sentivamo noi, un po' lo sentiva l'ambiente esterno, un po' era quasi una sorta di dovere. Siccome lo scorso anno era in Serie A, allora quest'anno una squadra di Serie A che gioca in B deve vincere. Non è così. Uno perché non è la stessa squadra che è cambiata completamente. E a differenza del Lecce, del Brescia, del Cittadella, dico tre nomi, del Palermo, che hanno tenuto praticamente quasi tutto l'organico cambiando quattro o cinque pedini e noi abbiamo cambiato penso venticinque, deve ricominciare da capo. Quindi con delle idee nuove, un allenatore nuovo, uno staff nuovo, giocatori nuovi, un ambiente che deve probabilmente ancora capire bene quello che sta accadendo. Perché parlo proprio in generale, il Benevento ha fatto C, B, A, tutto velocissimo e poi è ricaduto in B. È il secondo campionato di Serie B che vive questa realtà. Quindi è tutto talmente veloce che è anche difficile da capire. Quindi per me non era era tutto nella norma. Io mi aspettavo queste difficoltà. Quello che cercavo di fare in una maniera più veloce è di capire questa squadra, di capire come poterla farla rendere nel migliore dei modi. Credo che le difficoltà soprattutto le abbiamo avute numericamente a livello di uomini quando non abbiamo avuto per tante partite quei due mesi un po' di difficoltà dove abbiamo avuto tantissime defezioni. Abbiamo avuto tanti giocatori per noi importanti fuori e li abbiamo sempre cercato di ottimizzare al meglio quello che avevamo. Ma non era quello che avremmo voluto fare. Però l'allenatore deve fare quello che può fare non quello che vorrebbe. Quindi in quel momento era giusto far quello e nel momento in cui abbiamo recuperato tutti abbiamo cercato di fare semplicemente quello che era giusto per questa squadra. E parallelamente credo che tutti abbiamo capito che Livorno-Benevento è una partita difficilissima. Difficilissima. Come lo è Palermo-Venezia. Come lo è Brescia-Carpi. Sono tutte partite difficilissime. Quindi questo ci ha servito un po' a tutti quanti probabilmente di tornare un attimo con i piedi per terra capire che dobbiamo essere un attimo più umili quindi metterci lì dico sporcarci le mani perché per me è un segno di umiltà ma allo stesso tempo di gente che ha voglia di lavorare e quindi è la qualità che mi piace di più della mia squadra e in generale nella vita e l'abbiamo fatto e oggi credo che tutti quanti lo stiamo facendo insieme noi come i nostri tifosi tre mesi fa probabilmente qualche errore tecnico che abbiamo fatto contro il Pescara l'avremmo vissuto tutti diversamente i giocatori si sarebbero innervositi il pubblico avrebbe un po' magari manifestato qualche mugugno o qualcosa oggi no perché oggi sappiamo che questi sono uomini quindi possono sbagliare sono calciatori io sono allenatore tutti sbagliamo quindi lo possiamo fare ma lo facciamo sempre con l'intento di voler vincere di fare il bene di questa squadra di questa società di questa tifoseria oggi siamo tutti allineati per vivere queste cose nel migliore dei modi quindi ci permettiamo un errore sapendo che la palla dopo tutti quanti vogliamo vogliamo far far meglio far di più e non a caso poi arrivano le vittorie al novantesimo perché perché lo stadio ci ha spinto perché sentivamo che la nostra gente ci ha capito un'altra finale per il Benevento le partite passano che partita si aspetta a livello caratteriale visto che dai suoi ragazzi troverete un bel ambiente hanno anche festeggiato hanno fatto il ventennale con il loro presidente Spinelli e poi una curiosità Breda dice per me un allenatore incide nel quarto d'ora dell'intervallo durante la gara perché io sono uno che scrive molto specialmente nel primo tempo anche perché da calciatore quando l'allenatore urlava dal campo si sentiva poco Bucchi preferisce più urlare o scrivere? un po' tutte e due credo che l'allenatore deve essere bravo innanzitutto a preparare la partita nella settimana quando poi c'è io per esempio faccio quasi mai riunioni tecniche pre partita se non dando la formazione avversaria ricordando gli ultimi dettagli il particolare perché credo che uno non debba arrivare lì per capire il tipo di partita da poter giocare o come improntarla noi le nostre cose le sappiamo e le sappiamo da inizio settimana quindi arriviamo alla gara già pronti l'allenatore deve essere bravo a notare le cose che durante la gara vanno corrette l'assetto dove stiamo soffrendo dove possiamo migliorare le cose che non stanno andando sicuramente i 15 minuti di intervallo sono determinanti per mandare un messaggio alla squadra ed è vero che durante la partita sì per quanto tu puoi gridare noi a Benevento con 10.000 persone allo stadio spesso non mi sentono poi uno cerca di perché lì è il momento e cerchi di far arrivare un messaggio in tutti i modi spesso poi è un passaparola quello più vicino digli però per quando arriva è finita l'azione quindi è andata però fa parte poi del carattere c'è chi la vive in maniera un po' più sobra chi magari è un po' più agitato chi è un po' più vulcanico passionale credo che ognuno lo debba fare a modo suo e credo che sia rispettabile e bello proprio per questo Il Benevento si è rivelata ancora una volta una squadra particolarmente ostica da affrontare in casa ecco comunque tenendo conto del processo di miglioramento comunque che ha seguito la sua squadra come si aspetta questo doppio turno in trasferta prima a Livorno e poi a Cremona come lo affronterà il suo Benevento nonostante la distanza dall'Emuramica? Ci mancheranno tantissimi i nostri tanti tifosi ma sono sicuro che quelli che verranno insomma ci daranno il loro contributo e credo che questa squadra abbia dimostrato però nell'arco di questa stagione di essere se stessa sempre a prescindere quindi il nostro miglioramento è stato anche questo noi abbiamo vinto tante partite anche fuori casa quindi non è tanto importante in casa o fuori ovviamente il calore dei tifosi è diverso però abbiamo fatto un'ottima partita a Salerno a Foggia a Palermo insomma stadi importanti abbiamo vinto a Venezia abbiamo vinto a Padova abbiamo vinto a Udine in Coppa quindi noi fuori casa siamo una squadra forte come lo siamo in casa quindi non è che cambia giocare in casa o fuori cambierà l'ambiente non è il nostro terreno di gioco non è il nostro stadio e mancheranno probabilmente 9.500 tifosi 10.000 e questo può essere importante però non deve cambiare quello che noi siamo dentro il rettangolo di gioco e questo non cambierà buongiorno volevo fare una domanda su Viola al quale sta dando sempre più minutaggio con il Pescara è stato in un'occasione un po' sfortunato sul gol di Mancoso perché per l'indio è andato a sbattere sul Capone ed è diventato un assist però poi con l'angolo ha praticamente messo il pallone in testa a volta quindi se c'è la possibilità di vederlo dal primo minuto lunedì o comunque pensa di dargli un po' più di minutaggio di fare comunque un rientro graduale comunque per un calciatore che è un lusso in Serie B quindi lei lo ha detto la convivenza con Crisetig è possibile quindi magari vederlo anche come mezzala grazie più che l'ho detto l'ho fatto l'ho fatto contro una squadra forte in un momento particolare della partita quindi per me possono giocare insieme tranquillamente Nicolas può giocare in tutti i ruoli del centrocampo quindi è un giocatore per noi importante e vederlo sempre meglio sicuramente è una notizia che ci fa enormemente piacere oggi non si è allenato perché aveva avuto stanotte qualche linea di febbre quindi non l'ho visto vedendo l'ho visto un attimo di sfuggire stava tornando a casa però di sicuro sta migliorando quindi è anche quella un'opzione te io probabilmente non lo prendo in considerazione dall'inizio perché viene da una settimana un po' insomma un po' sottotono dal punto di vista proprio di numero di allenamenti Nicolas sta bene sta migliorando sta mettendo sempre più minutaggio cerco per quelli che in questo momento stanno giocando un po' meno anche di organizzare delle amichevoli mi ha fatto con andare a 17 mercoledì perché in questo momento voglio portare tutti nella miglior condizione possibile perché serviranno tutti e saranno tutti fondamentali che sia per i 10 minuti che sia per i 95 che sia per le due partite di seguito che sia per un turnovere per quello che sarà sarà però tutti devono diventare determinanti ecco questa è una cosa che mi piacerebbe che ogni mio calciatore senta in questo momento di poter diventare decisivo determinante non con la giocata ma con la sua presenza con il suo impegno così come stanno facendo in allenamento perché se hanno questo atteggiamento credo che sia la strada giusta se invece in questi momenti magari no chi gioca o chi entra pensa invece di risolvere gli eventuali problemi allora lì diventa lui il problema cioè la squadra è sempre lo sapete come ragiono è sovrana quindi si sono messi tutti a disposizione della squadra Nicolas in primis e questa è la cosa più bella quindi mi piacerebbe che continuassero tutti così sapendo che quella mezz'ora che ha fatto Nicolas è stata determinante per la nostra vittoria come i 10 minuti di Asensio come i 5 minuti di Armenteros a Salerno come i 3 minuti di Del Pinto non mi ricordo dove cioè non conta quanto ma come insomma è lì i giochi quei minuti lì e credo che questo insomma sia ormai parte del nostro DNA buongiorno mister volevo solo un commento sulla decisione del giudice sportivo in merito alla sua espulsione perché è vero che non è arrivata la squalifica ma è arrivata una pesante ammenda e soprattutto mi è sembrato una ricostruzione non proprio aderente alla realtà dei fatti avendo visto la scena mi è sembrato un po' forzata lei che ne pensa? No devo dire la verità pur capendo perché poi lì sono momenti in attimo l'agitazione era una partita importantissima il momento in cui comunque se eravamo in pieno possesso della gara il Pescara non c'era mai in pensiero di aver preso gol la mia reazione è stata oggettivamente che devo essere onesto mi sono girato che sfiga rivolta così se avete bella fortuna e ho calciato ecco questa è stata e ho calciato una bottiglietta non verso la panchina avversaria verso la tribuna perché ce l'avevo lì l'ho calciata di qua è stato un gesto di stizza di rabbia invece che prendermela con qualcuno finisce lì capisco che possa essere un comportamento diciamo non perfetto l'allontanamento l'ho accettato ho chiesto anche scusa a fine partita che mi ha detto tra l'altro no mister ma lei non ce l'aveva con nessuno quindi però ovviamente il gesto quello che mi sembra spropositato è l'ammenda ma i 7 mila euro la gente non si rende conto sono 7 mila euro se uno fa una rissa per strada viene denunciato non paga una multa di 7 mila euro quindi un delinquente questo è quello che secondo me non regge poi che uno debba essere sanzionato assolutamente se sbaglio è giusto che pago come pagano tutti gli altri allenatori giusto mi sembra spropositata l'ammenda la sanzione perché non è proporzionata né ai guadagni di un allenatore di serie B né a quello che uno ha fatto perché non è che sono entrato nella pagina a Pescara e ho cominciato a menare persone ho menato al quarto uomo mi denunciate parliamo di cose che accadono normalmente poi abbiamo preso un gol è normale non è che potevo essere contento o abbracciare Pilon quindi se ha rivisto la partita e a mente fredda mi può dare una valutazione sulle prestazioni di Buonaiuto e Maggio grazie sì la partita l'ho rivista tante volte la rivedo subito di notte in genere due o tre volte perché siccome non riesco a dormire allora me la rivedo e l'ho fatta rivedere pure ai ragazzi io credo che mi ha fatto un'ottima gara Buonaiuto non è stato bravo a trovare in alcuni momenti la posizione in campo perché quando si metteva bene col corpo si metteva tra le linee è lì il momento in cui lui diventa veramente pericoloso quando invece si alza troppo o si abbassa troppo diventa prevedibile e nella prevedibilità le sue caratteristiche poi si spengono quindi a me piace l'idea anche di cambiare posizione di togliere quella prevedibilità però deve essere bravo a trovare la posizione perché se lui trova la posizione giusta allora può diventare veramente il giocatore ci fa un salto di qualità importante se invece si va ad intasare negli spazi stretti o insomma non trova la giusta collocazione poi si spegne un po' all'interno della partita infatti lo cambio per quanto riguarda Maggio invece Maggio è rientrato molto bene sono contento di aver recuperato Cristian perché per noi è un giocatore importante sotto tutti i punti di vista ha avuto un percorso sicuramente difficile specie nei primi mesi perché anche lui doveva capire la categoria dopo tanti anni di Serie A arrivare a Benevento in B con tantissime pressioni perché poi da Maggio probabilmente si aspettavano tutti che facesse tre gol a partita quando invece Cristian è un ottimo giocatore ma ha altre qualità e poi insomma una condizione che purtroppo non l'ha mai fatto sentire al cento per cento oggi sta abbastanza bene è venuto fuori anche lui bene da queste due gare quindi è un altro giocatore che per noi è importante è recuperato quindi insieme ad Improta a Gianfi a Letizia insomma ci garantisce sugli esterni sostanza qualità spessore sotto tutti i punti di vista grazie a tutti